Sul parquet della formazione laniera, l'ospite stasera è l'Hockey Montebello. Ancora Giuliano Giuliani si presenta, va al centro. E c'è il gol, attenzione! Ma il più veloce di tutti è Xavi Rubio e la mette lì! Emanuele Garcia aggancia Ghirardello nel tentativo poi di rialzarsi. Parte Borregan, la finta va giù ma si rialza subito, sgaria! E gli dice di no, c'è l'errore di Borregan e la risposta! Davide Nadini! Davide Nadini non perdona qui! L'errore di Borregan recupera palla Valdagno. Di Nadini, Giuliano Giuliani che riparte, incrocia il passo, accelera il ciupete, la finta la mette lì! Grande assist del ciupete Valdagnese per Emanuele Garcia, ancora lui è appostato lì! Gol fotocopia di quello di sabato con lei da Piroli. Ancora Piroli la mette bene al centro lì, Nadini! E poi c'è il gol! La mette il Piro alle spalle di Pais! Dunque rientro il gol per... Ancora Borregan perde palla, c'è un 2 contro 1, vediamo un po', Nico Geda! Nico Geda, gol! Il gol di Nico Geda! Micidiale 1-2, bianco-azzurro! Avanti 4-1 nel punteggio Reti. In possesso palla Montebello, Cosimo Mattugini! Che bella idea dentro di Cosimo Mattugini per Bernardo Marquez! Geda che fa ripartire a Trenino dall'altra parte, Motta Run! Giuliano Giuliani, gol! Giuliano Giuliani! E il ciupete Valdagnese, la marca anche lui! Dorsal, nombra 9! Palla Lido stasera, anche se... E c'è il decimo fallo! Qua va Giuliani, la finta di Giuliani! Gancio contro gancio, alta! Tan su di lui, riesce a scaricare su Motta Run, Motta Run che va giù. Quindicesimo fallo. Chiaverubbio contro Leo Pais, vediamo cosa si inventa il catalano. La finta... E la metta è lì! Gancio contro gancio! La ciliegina sulla torta di Chiaverubbio.